Buonasera a tutti, benvenuti al webinar del lunedì di investire.biz, io sono Luca Di Scacciati con me, sempre presente, tranne quando non è in vacanza, Enrico Lanati, benvenuto. Buonasera a tutti. Eccoci qua, allora Enrico, sei carico per questa nuova settimana che è partita? Sicuramente perché, come sto per anticipare, oggi abbiamo un'operazione da fare in diretta, seppur piccolina, perché come vedete c'è un guadagno di solamente 10 sterline, quindi è un guadagno davvero piccolino, fatto con un mini contratto su Euro GBP. Questa è una posizione che andiamo a chiudere adesso, Enrico, chiudiamo, dato che sono passate 9 ore da quando l'abbiamo aperta, quindi è stata un'operazione di trading che ha portato ad un seppur piccolo profitto, che è stata aperta con la strategia 9924. Questa strategia per la quale siamo davvero molto carichi, perché è una strategia nata anche un po' per caso, se vogliamo, Enrico, perché stavamo cercando altro negli studi dei grafici fatti e siamo arrivati a questo un po' per caso. Quindi siccome generalmente quando le cose nascono così per caso sono davvero molto molto buone, abbiamo approfondito l'argomento e a distanza di un paio di mesi dall'inizio degli studi su questa cosa abbiamo deciso di proporvi il corso appunto che si terrà giovedì 17 alle ore 5. Quindi mi raccomando se avete intenzione di partecipare iscrivetevi perché come sapete i posti sono limitati, quindi siccome abbiamo già avuto tanti iscritti e presumibilmente nelle prossime ore, dato che abbiamo anche fatto un video di presentazione che spiega abbastanza nello specifico di cosa ci occuperemo, ecco questo è il link. Mi raccomando iscrivetevi perché sarà davvero un ottimo corso, sono convinto Enrico che parleremo molto della strategia 9924 nei prossimi mesi sul sito investire.biz, insomma ci farebbe piacere che nasca sostanzialmente una branchia del sito su investire.biz, nasca una branchia della strategia 9924. Vuoi aggiungere qualcosa? Innanzitutto devo dire la verità che raramente sono rimasto eccitato per un corso, nel senso che abbiamo fatto sempre degli ottimi corsi ma questo mi esalta in maniera particolare. Tra l'altro lo faremo insieme, io e Luca quindi è anche un po' una particolarità, forse è successo una volta soltanto che abbiamo fatto un corso insieme e quindi sono estremamente contento. A me piace tantissimo la tecnica che c'è sotto e quindi sono veramente contento di poterla condividere con voi. Noi nell'ultimo periodo abbiamo parlato prevalentemente di stagionalità ed è stato un corso che è piaciuto tanto e che si sta sviluppando anche in vivere di trading, abbiamo parlato di stagionalità. Qui non si parlerà di stagionalità ma vi daremo dei tool secondo me per lavorare come lo screener che vi andrà a individuare quali sono i mercati più interessanti al momento, o meglio nel momento in cui andate a fare le operazioni, che secondo me sono veramente interessanti, avrete un'operatività diversa dal solito, vedrete cose che non avete penso mai visto prima, per cui sono veramente esaltato per questo corso. Ecco, importantissimo Enrico come giustamente hai detto te, daremo il codice del pro screener, ovvero questo tool che è presente nei grafici della piattaforma che consente appunto con il codice che daremo ai partecipanti del corso di far fare il lavoro sporco, il dirty job come dicono gli americani o gli inglesi, alla macchina. Quindi questo permette poi di fatto di avere tutta una serie di strumenti che ci vengono proposti già la mattina piuttosto che ai vari orari in cui vorrete poi utilizzare questa tecnica, vi verranno proposti direttamente dal computer per cui davvero il grosso e lo sporco del lavoro viene fatto dalla macchina. È la prima volta che utilizziamo il pro screener, quindi questo strumento, proprio perché davvero è molto utile e ci consente davvero di snellire il lavoro duro, ovvero il lavoro di analisi e il lavoro appunto sporco, che come dicevo lo facciamo fare al programma. Ricordo appunto che questa è una tecnica particolarmente indicata per chi non ha tempo, perché 9924 sta appunto a indicare che una volta al giorno andiamo ad operare la mattina e poi a fine giornata, quindi due volte semplicemente inserendo ordini automatici, quindi operando a mercato e inserendo ordini automatici poi di stop e target, con comunque la liquidazione a fine giornata della posizione. Quindi davvero a mio avviso è molto interessante questo corso, sia per chi non sa niente di trading e non conosce l'analisi tecnica e non sa che cos'è un testespalle, che cosa sono le trendline, le medie mobili eccetera, ma è molto interessante anche per chi ha delle nozioni di trading, in particolare sul forex e io credo che con questo corso si riesca a capire tanto dei mercati finanziari e soprattutto delle correlazioni che ci sono tra i vari strumenti. Quindi Giovanni chiede ma è un software o un ordine pending? No, è un software, è un codice che vi insegneremo poi a inserire nei vostri grafici, non si utilizzano ordini pending, davvero ne vale la pena Giovanni, quindi mi raccomando non perdere questo corso. Per iscrivervi è semplicissimo perché come al solito basta andare nella pagina corsi e webinar che trovate qui a sinistra e qui trovate i link appunto per prenotare il vostro posto. Mi raccomando, spesso e volentieri capita che quando siamo così convinti di un corso le iscrizioni schizzino subito verso l'alto, mi raccomando non perdetelo. Ora, dai Enrico, ecco questa è la schermata che conoscerete durante il corso, quindi io direi di andare su un'altra nostra schermata più tradizionale per cominciare vero e proprio webinar di oggi. Allora, Enrico, da che cosa cominciamo? Guardiamo un pochettino l'euro dollaro per vedere a che punto siamo su questa valuta? Sì, se posso aggiungere qualcosa su euro dollaro, questa è la settimana decisiva. La settimana scorsa è stata particolarmente scevra di dati macroeconomici, non ci sono stati dei dati macroeconomici particolarmente rilevanti. Questa settimana sarà proprio la settimana non solo della Fed ma di tutta una serie di dati macroeconomici ultra rilevanti che culmineranno ovviamente con la Fed che inizierà a riunirsi mercoledì e chiuderà la sua riunione giovedì alle ore 8 con l'annuncio sui tassi di interesse e poi alle 8 e mezza con la Yellen che farà la sua consueta conferenza stampa dove appunto darà tutte le indicazioni relative all'incremento o meno dei tassi di interesse. Una volta, qualche mese fa, tutti erano convinti che il rialzo sarebbe venuto dopo l'estate e quindi a settembre. Io non sono più così convinto ma gli analisti, abbiamo preso un panel di analisti su Bloomberg e adesso la percentuale di chi si attende un rialzo è intorno al 23%, quindi molto molto bassa. Ogni giorno sembra decrescio, sta venendo fuori, si sta creando l'idea del fatto che probabilmente questo rialzo verrà rimandato. Il mercato non è così forte per scontare un rialzo dei tassi USA. Questo è importante perché se vi ricordate noi già durante il webinar del lunedì della settimana scorsa avevamo parlato di un rialzo euro-dollaro, infatti lo vedete l'ordine in macchina sul rialzo, vedete che siamo entrati sotto il livello di 1,12. Ecco, il mercato ha iniziato a salire, avevamo detto che il nostro target poteva essere intorno ad area 13,50, bene o male l'abbiamo raggiunto lì alle 13,50, peccato non aver liquidato la posizione rialzista. Io penso che si muoverà all'interno di un range di una sessantina, settantina di pip tendenzialmente tra rialzo e ribasso, potrà raggiungere massimo il livello di 1,14 nei prossimi giorni, poi dovremo vedere quello che succederà. La Fed io non penso alzerà i tassi di interesse, potremo vedere un incremento, salirà secondo me euro-dollaro ancora un po', quindi in seguito alla decisione e perderemo in parte quella correlazione che abbiamo visto molto forte tra indici europei che scendono, euro-dollaro che sale e viceversa. Quindi vedremo i mercati europei salire e euro-dollaro salire, quindi si perderà in parte questa correlazione. Questo si perderà non per tanto tempo, probabilmente per le due o tre ore successive all'annuncio, però appunto mi attendo a un euro-dollaro che possa raggiungere al massimo 1,14 e poi magari fare ulteriori sbalzi rialzisti di un altro centinaio di pip qualora i tassi non dovessero essere toccati. Bene, bene, bene. Dal punto di vista tecnico Enrico possiamo vedere che il trend è comunque rialzista nonostante appunto una trendline di medio termine sia stata effettivamente rotta a ribasso con forza, il rialzo che stiamo cavalcando ha toccato appunto la trendline che è stata rotta e potrebbe appunto, secondo l'analisi tecnica diciamo o lo studio delle trendline, i prezzi potrebbero giungere al livello di 1,11 nelle prossime sedute. Proprio oggi ho pubblicato un articolo riguardante l'euro-dollaro con la stagionalità dell'euro-dollaro nelle prossime sedute ed è sempre molto interessante perché possiamo vedere come è prevista sostanzialmente tutta una fase laterale su questa valuta con un possibile picco massimo a inizio ottobre. Quindi stiamo a vedere cosa potrebbe succedere. Vediamo un pochettino come si svilupperà questa cosa. Sempre se vogliamo parlare di cicli e stagionalità, molto molto interessante ed è stata apprezzata particolarmente da un bel po' di persone invece la stagionalità sull'S&P 500. Io ho voluto fare la stagionalità sull'S&P 500 Enrico perché negli ultimi mesi secondo me si sta dando un po' troppa importanza ai mercati come la Cina per esempio, si sta dando troppa importanza ai mercati come il Brasile. Insomma diciamo c'è stata un'attenzione particolare ai mercati emergenti. Ecco, secondo me bisogna un attimo ritornare alle origini e capire sostanzialmente che il vero motore del mondo rimane comunque tuttora l'America. Probabilmente in futuro ci sarà un passaggio della Cina sull'America, però ancora secondo me non è il momento. Tant'è che ho fatto questo studio dove vediamo che tra settembre e ottobre, secondo la stagionalità, sono previsti i minimi del mercato azionario americano con una conseguente salita molto importante che ci porterebbe verso la fine dell'anno. Se andiamo poi a zoomare, vedete questo è settembre, ottobre con il rialzo. Se andiamo poi a zoomare, vediamo come i prossimi giorni, questo è il 14, vedete oggi la giornata di oggi, dovrebbe cominciare proprio un po' di debolezza con anche fasi abbastanza forti di volatilità a ribasso e anche in questo caso appunto una zona di accumulo potrebbe iniziare a formarsi tra fine settembre e inizio ottobre. Tu come la vedi questa possibilità cercando magari anche di incastrarla con l'euro-dollaro? Ma io sono abbastanza convinto di quello che hai detto e mi piace quello studio sulla stagionalità, sa io l'apprezzo molto e quindi non mi sento di aggiungere altro. L'euro-dollaro secondo me è un po' una storia a sé, nel senso che se dovesse esserci l'aumento, considerate che l'aumento di tassi da Yellen ha detto che arriverà entro fine anno, questo impatterà in maniera negativa sull'equity, quindi anche sull'SP500, ma penso in maniera marginale, cioè cosa vuol dire? Che quando ci sarà, non sarà secondo me a settembre, potrà essere a novembre, mi pare che sia la volta successiva, o al massimo a dicembre, avremo una giornata da meno 2, meno 3 sui mercati. Ecco, secondo me lì bisogna attendere altre 24-48 ore e si creeranno ottime opportunità di acquisto, cioè quando ci sarà secondo me lo sciacquone dovuto al rialzo dei tassi e le borse faranno secondo me intorno a meno 6 nel giro di 2-3 giorni, quindi un meno 3 più un meno 2, insomma due giorni molto negativi, lì saranno ottime opportunità di acquisto, perché non sarà successo niente, non è nulla di strutturale, è un dato macro che va a impattare sul mercato dell'equity, quindi mercato dell'equity che ritraccia, scende, scende forte, compriamo e da lì probabilmente vedremo nuovi massimi, perché dal punto di vista strutturale non è successo nulla, quindi lì ci saranno delle ottime opportunità, dovremmo essere short prima del taglio e long dopo il taglio. Io come sai sto già da un po' di tempo selezionando dei titoli da comprare a sconto, ne abbiamo visti due la settimana scorsa sull'indice tedesco, quindi dei titoli tedeschi, continueremo questo screening magari anche in altri paesi, concentrandoci chiaramente su quello che è un eventuale investimento in euro, dato che guardando un grafico di lungo termine sul grafico dell'euro dollaro, vediamo come effettivamente potremmo essere vicini a una zona di ripartenza dell'euro con un ciclo davvero epocale che potrebbe riniziare su questa valuta, quindi ci sono tutte le carte in regola finché appunto i mercati europei siano la scelta giusta per gli anni a venire. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, cercheremo di fare il nostro meglio facendo anche operazioni di lungo termine, non solamente operazioni intraday come faremo invece con la strategia 9924. Bene, prego, prego. Luca, giusto così ti do un'informazione di servizio, visto che abbiamo parlato tanto del rialzo dei tassi USA e di tutto quanto, faremo un webinar mercoledì, quindi il giorno prima, quando sarà iniziata la riunione della fede, arriveranno le prime indiscrezioni, ci sarà appunto questo webinar sul nostro sito, quindi vi esorto a iscrivervi perché purtroppo possiamo accettare solo 100 registrazioni e quindi insomma i primi che si iscrivono avranno diritto a partecipare, invece chi, insomma, quindi solo per i primi 100 posti siamo già arrivati a un livello alto, quindi insomma visto che voi ci state seguendo vi do questa dritta, questa chicca. Sì, probabilmente nelle prossime ore dobbiamo toglierlo dalla programmazione perché altrimenti gli iscritti sarebbero troppi, poi chiaramente se facciamo troppi iscritti, giustamente chi magari si è iscritto poi non riesce a partecipare e se la prende, quindi insomma approfittatene adesso, Enrico vi dà questa news se volete partecipare, sarà sicuramente molto interessante questo webinar proprio in concomitanza di una decisione molto importante. Stiamo a vedere, stiamo a vedere cosa succederà, io rimango, sono d'accordo con quello che in un commento ha detto oggi un caro amico, vedi nel commento che troviamo qui c'è Andrea che è uno dei partecipanti del corso Vivere di Trading che dice sono molto d'accordo con la tua previsione, sono sempre più convinto dell'importanza dei cicli di mercato nella determinazione delle tendenze di breve, media e lungo. Poi guarda caso a metà fino a ottobre abbiamo una serie di appuntamenti molto importanti per i mercati prima di fare tutti la riunione della Fed, ecco. È la stessa sensazione che ho sempre vissuto io chiaramente negli ultimi mesi anche grazie al programmino che stiamo creando, veramente è super esplosa in me questa sensazione, davvero la sento molto molto forte e Andrea è riuscito in poche parole a riassumere il concetto. E per rispondere allo stesso Andrea che ci chiedeva attendiamo con ansia il nuovo tool, sta arrivando siamo un po' in ritardo perché doveva essere consegnato dai programmatori a inizio di settembre siamo già al 14, la verità non è colpa dei programmatori, è anche un po' colpa nostra che siamo un po' dei perfezionisti e proprio oggi abbiamo voluto aggiungere un paio di cosette per rendere come dico nel commento poi più presentabile, un po' più presentabile questo programmino quindi ancora un po' di pazienza ma sono convinto che poi le aspettative saranno ripagate perché Andrea dice Luca mi fai diventare rosso che l'ho citato nel web, no no ci mancherebbe Andrea è stato davvero un piacere conoscerti al corso insomma siamo contenti di aver fatto quel corso e aver conosciuto tante persone davvero molto interessanti bene allora andiamo a vedere dato che stiamo parlando di indici anche il nostro indice italiano vediamo un pochettino che cosa ci dicono i gracchi però Luca partirei con l'Eurostox insomma che dopo qualche segnale operativo che non abbiamo dato è stato particolarmente esaltante, oggi l'Eurostox ha avuto un bel ritracciamento abbiamo dato certo vai 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 che io sto è un stock sì 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 e abbiamo deciso di utilizzare questo indice che non lo utilizzavamo da diverso tempo sostanzialmente perché volevo dare una cosa che fosse un po' più che si muovesse con minore volatilità rispetto ad altri strumenti aspetta un attimo Enrico sta dicendo una minchiata ve lo dico io perché ha usato l'Eurostox perché io era tutta mattina quando l'Italia era positiva che gli dicevo oh Enrico entriamo short entriamo short entriamo short non era convinto non era convinto e poi quando è iniziato a scendere gli ho detto hai visto che dovevamo entrare short e lui mi fa eh dai allora andiamo short sull'Eurostox 50 che ancora non è partito questa è la verità è vero perché tu volevi la volatilità tutte minchiate tutti non sei entrato quando te l'ho detto io no perché in realtà l'Italia ha anticipato di fatto il movimento dell'Eurostox l'Eurostox era rimasto un attimino indietro ha detto guarda che se è scesa l'Italia è sceso qua tutto quanto pesano su questo indice qui c'è ancora un po' di strada da fare e quindi in realtà seguendo le correlazioni seguendo questo seguendo quell'altro ci sembrava molto utile andare diciamo in linea seguendo appunto quello che stava succedendo sul mercato e quindi qui abbiamo dato secondo me un ottimo segnale operativo vedete ha rotto anche i minimi qui potrà scendere ancora ancora un qualcosina mi raccomando mettetevi lo stop in pari almeno così su questa posizione evitiamo di perdere insomma su questa operazione certo certo adesso a parte gli scherzi poi chiaramente comunque anche so che tante persone stavano tenendo d'occhio tra virgolette il mercato italiano che insomma sembra proprio diretto adesso mi dirai cosa ne pensi Enrico verso il livello nostro di acquisto che è già da diverso tempo è posizionato in area 21.000 personalmente questo livello di 21.000 che c'era stato consigliato da Mario se non sbaglio su un su un articolo un po' di qualche settimana fa a me piace davvero tantissimo perché rivedo questo livello di luglio scorso e secondo me qui un bel rimbalzo come minimo verrà fatto tu cosa ne pensi sì io l'ho provato ad analizzare questo questo strumento io penso che il livello di 21.000 verrà raggiunto è solo un fatto di pazienza se ci fate caso sul gold abbiamo messo 1140 alla fine ci è arrivato abbiamo uno short su euro dollaro 1.1450 alla fine secondo me entro fine settimana ci arriva quindi è solo questione di tempo sono convinto che a 21.000 ci arriva io penso che scenderà ancora un centinaio 200 punti in più quindi penso che possa atterrare sui 20.000 e 8 però insomma 21.000 è un ottimo livello per iniziare a accumulare una posizione rialzista insomma un ottimo livello al quale comprare questo sì se si ha un po' di pazienza a quel livello secondo me anche qualche bel titolo un po' a sconto si può trovare sul mercato sul mercato italiano quindi quando saremo in quella zona faremo partire anche in quel caso il nostro screener che utilizziamo e vedremo un pochettino se c'è qualche qualche occasione da mettere nel cassetto stiamo a vedere stiamo a vedere un pochettino c'è Luca che ci chiede informazioni su Audi CAD vogliamo passare a vedere il Forex oppure c'è Andrea che ci chiede ma il DAX scende ancora andiamo a vederlo il DAX così rimaniamo sugli indici europei se vuoi aggiungere o vedere qualche mercato in particolare Enrico mi raccomando basta chiedere il DAX invece sta recuperando terreno sugli indici europei perché guarda non ha fatto assolutamente i minimi ed è in una posizione molto più rilassata rispetto alle altre borse europee regge il DAX diciamo che magari è un po' più lento quando c'è una fase rialzista su una fase ribassista il DAX teme un po' meno la paura per così dire quindi la Germania è percepita come un paese solido e l'indice tedesco diciamo ha scossoni ribassisti un po' meno violenti quindi in una fase di ribassista tendenzialmente tiene un po' di più quindi si sta incuneando tra virgolette all'interno di un range piuttosto piccolo secondo me anche il mercato tedesco che è seguito anche oltreoceano lo stanno è abbastanza bloccato in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi legati alla Fed e ai tassi di interesse insomma che impatteranno anche sull'equity tra l'altro appunto come dice Francesco domani ci sarà un dato molto importante che è lo ZEV e quindi si attende insomma questo dato macro questa settimana sarà ricchissima di dati macroeconomici mi raccomando guardateli perché in ogni momento ce ne saranno ce ne saranno diversi il dato ZEV è un dato molto molto importante per l'economia tedesca quindi sicuramente ci sarà forte volatilità durante l'uscita del dato ho capito bene 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 giusto per fare una brevissima pausa c'è Mario che ci chiede di elencare se possiamo i vantaggi di aprire un conto reale su IG tramite noi quali sono i webinar che si possono ai quali si può accedere con avendo il conto di IG allora Mario tieni presente che ti farò scrivere da la nostra assistenza clienti così da non rubare troppo spazio all'operatività così che tu possa avere tutte tutte le informazioni però tieni presente che per esempio uno dei webinar a cui potrai accedere gratuitamente è il trading live per esempio e poi chiaramente a giorni quando uscirà questo programmino potrai utilizzare il programmino per le previsioni quindi insomma sicuramente ne vale la pena aprire un conto attraverso investire.biz perché le condizioni del conto rimangono esattamente le stesse che avresti andando direttamente da IG ma in più hai i nostri webinar la nostra assistenza e tutto e tutto quanto però ripeto i segnali operativi i segnali operativi esatto esattamente via SMS insomma un po' di un po' di cose interessanti ci sono di sicuro non hai niente in meno ecco tieni presente Mario che non hai niente di meno anzi solo di più perché se hai un problema ti puoi rivolgerle anche a noi insomma noi cerchiamo di dare un po' di servizio ecco se giusto una cosa se ti vuoi fare un'idea di che cos'è il trading live e come funziona sul nostro canale youtube tra gli ultimi video caricati trovi anche l'ultima registrazione integrale diciamo del trading live e quindi lo puoi vedere quello con diciamo tutti gli schermi il terzo ultimo eccolo qua esatto questo qui questo qui esattamente esattamente che tra l'altro è molto interessante perché hai fatto proprio un bel 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 trading c'è Bruno che dice conviene conviene aprire il conto tramite investire.biz grazie mille quindi comunque ti faremo contattare dalle nostre collaboratrici che in tanti in tanti di voi già conoscono bene 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 cosa andiamo a vedere abbiamo visto i mercati azionari direi che possiamo passare o tornare al forex dove abbiamo Luca che ci chiede informazioni su audicad andiamo a vedere audicad ecco qua questo è il grafico a 4 ore siamo in procinto siamo vicinissimi alla media mobile a 200 periodi sul grafico a 4 ore abbiamo un buon rialzo partito da 0,91 e 60 siamo in prossimità di 0,95 cosa abbiamo da dire su questo cambio ma io la vuoi la mia pronti via che cosa fai su questo cambio a canno subito short bene perché poi ve lo spiego però facciamo l'operazione perché quando sei così convinto sai che mi piaci quindi no questo è un mini andiamo allora a vedere audicad ecco qua cerchiamo clicchiamo così anche se c'è qualcuno che magari non è tanto bravo a usare la piattaforma vede come si fa e ci mettiamo short quindi clicchiamo su vendi ok facciamo apertura forzata così evitiamo magari di chiudere altre posizioni che ci dimentichiamo di avere ed eccoci qua siamo short su audicad vai adesso però ci devi dire perché allora qui secondo me le considerazioni sono diverse la prima è che io ci vedo una sorta diciamo di figura di inversione come un testo e spalle rialzista sul grafico 4 ore che ha praticamente concluso la sua figura no quindi bene o male siamo arrivati a target non di meno abbiamo la media mobile che non è stata raggiunta ma siamo in prossimità della media mobile e il trend di lungo termine è comunque ribassista queste sono le mie indicazioni quindi di fatto entro short da un livello altissimo dopo un trend di brevissimo rialzista prima cosa seconda cosa la Audi è una valuta che è debole in questo periodo è considerata nel panel delle valute che io considero debole e invece il CAD rientra tra le valute che io considero forti insieme a sterline insomma quelle che voi sapete che ne abbiamo viste durante i vari trading live quindi abbiamo una valuta forte una valuta debole e la valuta forte ha diciamo perso tanto nei confronti della valuta debole oltre 200 quasi 300 pip quindi è un momento buonissimo per entrare è un bellissimo trade da fare quindi secondo me qui la tendenza si inverte e andiamo a vedere probabilmente nuovi minimi bene 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 interessante guarda dal punto di vista tecnico ti posso dire che siamo in un punto davvero molto interessante perché è stato rotto al ribasso questo bel triangolone che dura veramente da tantissimo e adesso siamo proprio in pieno rimbalzo quindi sono d'accordo con te tutto sembra voler far indicare un ribasso ulteriore tra l'altro quindi un rafforzamento della moneta canadese nei confronti del dollaro australiano che probabilmente se proprio vogliamo proprio vogliamo fare i farmacisti siccome la moneta australiana dovrebbe dovrebbe subire a causa di ulteriori perdite dell'oro che adesso poi andremo anche a vedere potrebbe davvero incastrarsi tutto magicamente con dei target davvero 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 più bassi rispetto a questo prezzo magari anche in area 0.9 stiamo a vedere stiamo a vedere stiamo a vedere però questa è una bella operazione insomma che abbiamo fatto quindi mi piace sì mi piace molto mi piace molto e ringrazio anche chi ci ha segnalato questo questo cambio però dal punto di vista tecnico è veramente ineccepibile questa 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 figura cioè se non dovesse funzionare Martin Pring è lui che ha scritto no Murphy quello che ha scritto il libro dell'analisi tecnica si deve girare nella tomba si deve vergognare perché tutto quello che ha scritto vuol dire che sono stuffe mi fai vedere una cosa al volo sul grafico giornaliero mi aggiungi un indicatore al volo sai che io guardo sempre l'RSI in maniera mi fai vedere se in un intorno come sei stufoso madonna e da quando c'hai 12 anni che ti vedo usare sto cavolo di RSI mamma aggiornati mamma mia c'è il super trend adesso mi fai vedere se siamo sui 60 quanto te lo devo mettere no va bene così 54 65 potrebbe salire ancora una centinaia di pip ci siamo perché siamo quasi a 60 palo diciamo potrebbe salire ancora lo vuoi a 60 te lo faccio fare 59,6 te l'ho messo a 10 no ma te usi sempre sto coso ma ci credi anche a sto coso di RSI eh sì perché è stata una delle prime cose che mi hanno insegnato quando ho iniziato a lavorare bene oramai tanti anni fa però vedo che lo guardi spesso però è divertente curiosità mia comunque ci siamo potrebbe salire fino a 95 secondo me perché da lì potremmo shortare anche meglio però insomma secondo me siamo entrati bene 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 ottimo stop loss e target in questo caso io direi di aggiornarci di aggiornarci magari la settimana prossima e vedere un po' come va sicuramente per rispondere a Tullio questa è una posizione di medio lungo termine quindi insomma non possiamo mettere uno stop loss troppo stretto ecco assolutamente sono di questo avviso almeno un centinaio di pip dobbiamo rischiarli insomma su questa posizione guardate la media mobile a 200 passa a 95 99 il che vuol dire dai livelli attuali circa 127 pip 126 pip più o meno quindi almeno un centinaio di pip per andare a farne però fino a 92 quindi sono 270 quindi i rapporti rischio rendimento ci sono è un ottimo trade manteniamolo con almeno un centinaio di pip di stop e poi comunque ci aggiorniamo bene c'è Fabrizia Enrico che dice una cosa molto interessante che adesso andiamo a vedere Fabrizia dovete sapere oggi sono un po' gossiparo oggi voglio farmi un po' i cavoli della gente Fabrizia è l'unica donna che ha partecipato al corso vivere di trading e devo dire che ultimamente ci sta tirando fuori delle chicche veramente notevoli so che anche al trading live ha consigliato un'operazione davvero molto bella e oggi ci dice ma oltre all'oro non pesa anche il rame nell'andamento di Audi il rame ultimamente è salito bene sì assolutamente il rame è proprio un indicatore molto importante sia dell'economia sia delle materie prime io mi ricordo Enrico il personaggio di cui ogni tanto parliamo che è il nostro caro amico trader l'unico trader che io conosco con la Ferrari che ce l'ha per davvero che una volta una delle prime volte che lo conobbi mi disse ma io ho fatto un sacco di soldi con il rame e gli ho detto ma com'è che hai fatto a fare i soldi sul rame cos'è che perché e lui mi ha detto è l'economia tutti dicono che va male il rame era in alto quindi io mi sono messo short sul rame ho fatto un sacco di soldi e ho detto cazzo questo ragazzo qui è bravo perché fa cose semplici e funzionano quindi Fabrizia brava perché sento che sei sulla buona strada stai facendo dei ragionamenti molto interessanti molto intelligenti andiamo a vedere il copper a vedere come è messo vediamo un po' non lo guardo spesso anzi praticamente mai quindi vediamo un pochettino allora questo è un grafico giornaliero mettiamo sì il giornaliero va bene anche perché non abbiamo tanto storico sicuramente è salito nelle ultime nelle ultime negli ultimi giorni anche se la tendenza non sembra particolarmente rialzita non abbiamo tanto storico la verità è che non abbiamo tanto storico quindi non vorrei neanche dire troppe cavolate avrei bisogno di vederlo un po' più sul lungo termine per vedere per vedere come siamo posizionati spazio tempo quindi però insomma me lo segno perché è una cosa sicuramente interessante e lo vediamo magari in un articolo oppure settimana prossima sempre al trading del lunedì bene 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 c'è Andrea che dice che appunto conferma che è molto brava quindi insomma complimenti ancora allora vediamo un pochettino Henry dove andiamo andiamo a vedere l'oro dai visto che stiamo sì sì in realtà io Fabrizio ci aveva dato delle indicazioni dicendo appunto che la Bank of Japan discute la politica monetaria del Giappone proprio in queste ore meglio questa questa sera quindi saranno quello secondo me è molto interessante perché potremo vedere come andrà la politica giapponese da parte della Bank of Japan cambia molto spesso a seconda diciamo di come tira il vento sappiamo che è un paese estremamente indebitato debito pubblico enorme molto peggio diciamo del nostro per intenderci quello italiano però è un è un paese che è molto attivo con riferimento alla politica monetaria nel senso che se c'è da svalutare svalutano e lo fanno in maniera piuttosto veloce e potente quando devono riapprezzare la valuta invece sono estremamente rapidi anche in quello diciamo che è una banca centrale estremamente attiva quindi le valute giapponesi sono da tenere in considerazione vi esorto a utilizzare una leva bassa soprattutto all'inizio soprattutto in questi giorni proprio perché potrebbe esserci volatilità sui mercati che scambiano contro sterlina e a tale proposito appunto mi rispondo anche all'amico Antonio che penso che sia un utente nuovo che ci chiedeva appunto avevamo parlato dei 100 pip sull'operazione sull'USD o meglio sull'Audi CAD Antonio per te sarebbe ottimo il corso che abbiamo fatto per i principianti quindi ti esorto a cliccare a scrivere a info chiocciola investire punto biz e così ti fai inviare il corso per principianti o chiedi come come fare per averlo bene 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 sì infatti che chiedo Antonio chiede a quanto corrispondono 100 pips in termini monetari ecco insomma se mandi una mail come ti ha suggerito Enrico ti giriamo il link del corso che è stato fatto apposta per domande di questo tipo bene 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 possiamo passare a vedere l'oro Enrico ci sono un po' di persone che hanno un po' di domande allora vediamo subito materia prima chiaramente molto affascinante e molto importante che spero però che coli a picco perché io mi sono fatto delle scommesse con Mezzomondo io veramente tra poco mi giocherò anche la casa sul ribasso dell'oro perché veramente sono ormai più di un anno che io punto al ribasso su questa materia prima e come magari tanti di voi già sanno sono punto ad un livello di mille dollari per oncia quindi c'è ancora c'è ancora spazio non tantissimo però tutto sembra andare nella direzione giusta noi siamo ribassisti se non sbaglio su questa materia prima abbiamo delle posizioni te adesso dici assolutamente come se fosse un'idea tua ricordati che ci ho messo sei mesi a convincerti prima di metterti al ribasso su questo su questo cavolo di oro e adesso te la tiri però eri tra quelli che oh l'oro è basso compriamo compriamo non funziona più l'oro così allora ci sono i migranti che arrivano in Europa le borse che sono sui massimi l'economia americana che ha un debito sempre più alto in teoria l'oro dovrebbe essere il bene rifugio per eccellenza in verità no in verità no sembra che tutti se ne stiano liberando spiegaci un po' Enrico facci un po' riassunto adesso a parte gli scherzi della situazione su questa materia prima che sembra aver perso un po' il suo appeal ma si tra l'altro pare che ci siano delle forti vendite proprio anche da parte delle banche centrali sull'oro anche se con riferimento a questa particolare valuta c'è sempre poca trasparenza da parte delle banche centrali quindi la mia idea è che comunque verrà rotto questo livello di 1100 ci siamo oramai veramente prossimi e continuerà il suo movimento ribassista noi siamo entrati piuttosto bene su questo strumento io penso che ottimi livelli per andare nuovamente short se non avete posizioni in portafoglio possano essere quelli di 1125 insomma per poter shortare nuovamente questo strumento ci vuole pazienza qui ragazzi non pensate di fare delle operazioni che vadano subito a buon fine è un pachiderma loro cioè si muove veramente con calma poi ogni tanto succedono le giornate in cui si va velocemente sul livello successivo però è veramente lento come strumento e insomma bisogna fargli prendere i suoi tempi è molto tecnico però d'altro canto perché se guardate vediamo per esempio in questo caso un bel supporto qui in area 1160 è stato rotto c'è stato il suo bel rimbalzo adesso sta continuando a scendere e vedremo un pochettino appunto se la nostra previsione di io continuo a dire che raggiungerà la parità non so perché lo associo all'euro dollaro al livello di uno ma in verità sono semplicemente mille dollari per oncia io continuo quando mi capita a chiedere cosa ne pensano dell'oro ai compro oro e devo dire che 90% dei compro oro cui chiedo pensano che il prezzo dell'oro continuerà a scendere non so bene perché non so bene per come mi dicano questo ma sicuramente hanno un punto di vista completamente diverso dal mio e questo rende alquanto interessante la loro visione ecco loro non hanno sicuramente davanti un grafico di lungo termine spesso e volentieri sono persone che conoscono bene il loro specifico settore ma non hanno neanche idea di che cosa sia il prezzo di produzione dell'oro eccetera quindi insomma davvero qualcosa di molto interessante sentire comunque dei professionisti che maneggiano questo questo metallo prezzato tutti i giorni dire no no ma secondo me scende la cosa che mi ha colpito la cosa che mi ha colpito e che voglio condividere con tutti voi questa sera è cosa mi ha detto una persona gli ho chiesto ma secondo te il prezzo dell'oro scenderà o salirà e lui mi fa ma sicuramente scenderà gli ho detto perché e lui mi fa perché sta scendendo e c'ha ragione e c'ha ragione perché le tendenze tendono a durare e di conseguenza lui ha detto una cosa molto ovvia che poi mi ha fatto pensare e ho detto cacchio ma io spesso durante i miei corsi durante i miei interventi dico guardate i grafici fate finta di essere un bambino e ditemi se questo grafico sale o scende e appunto un bambino che vede questo grafico dice che il grafico e i prezzi stanno scendendo quindi molto probabilmente continueranno a scendere sei d'accordo? sì non c'è neanche nulla che ti fa pensare che possa esserci un rialzo perché comunque probabilmente un rialzo ci sarà e ci sarà anche in questo caso potrebbe avvenire secondo me con il rialzo dei tassi quando ci saranno tantissime vendite sull'equity però ti dico sarà una cosa contingente 24-48 ore ottimi occasioni per vendere ancora insomma quindi in realtà non penso che sia una cosa strutturale un rimbalzo sul gold anzi ottimo per poterlo shortare ancora beh sì l'unica cosa che appunto non capisco io è questa qui cioè in teoria in un momento così allora c'è i migranti che arrivano dalla Siria dal Pakistan eccetera quindi insomma non è una situazione bella per l'Europa c'è Putin che sostiene il governo di Assad gli americani che vogliono tirare giù Assad l'Isis che rompe i coglioni cioè in teoria veramente bisognerebbe vedere acquisti pesantissimi di oro perché io non lo so però vero è che quando uno me lo chiede io gli dico sempre che il mondo è sempre andato a puttane e continuerà ad andarci quindi di fatto forse non sta succedendo niente di che nell'economia mondiale però insomma non mi sembra una situazione dove si possa snobbare un un bene rifugio come come questo cioè tutti i beni rifugio stanno andando male stanno scendendo guarda il franco svizzero che cacchio succede nella nella letteratura che ho potuto leggere diciamo a livello di ricerca quello che mi arriva c'è una preferenza per la liquidità cioè oggi come oggi il vero bene rifugio è percepito come il soldo liquido quello che ti consente di poter fare investimenti o meglio di poterlo spendere all'occorrenza quindi ho notato che coi rendimenti delle obbligazioni prossime allo zero coi rendimenti dei titoli di stato prossimi allo zero con Draghi che comunque compra i bond che non rendono nulla e quant'altro l'investitore medio si ritrova in una situazione diciamo di difficoltà non sa dove mettere questi soldi e in una fase di forte incertezza qual è quella attuale preferisce dare preferisce appunto la liquidità preferire la liquidità che cosa vuol dire? vuol dire di fatto tenere i soldi fermi sul conto corrente e non investirli e quindi neanche investirli in oro in questo momento penso che sia questo guarda c'è qualcuno che prevede un disastro economico tra l'altro proprio che dovrebbe arrivare di recente siccome noi siamo abituati a darvi delle belle informazioni a volte anche divertenti sappiate che il 17 il 17 di settembre esce il film The Forecaster che vediamo se vi riesco a trovare The Forecaster Ita ecco qua ecco il teorema della crisi questo qui è un film che uscirà il 17 di settembre al cinema e racconta vi invito ad andare a vedere il trailer personalmente andrò anche a vedere il film perché in genere mi interessano è la storia tra virgolette vera perché io non è che abbia trovato chissà quante informazioni di questo tizio che fa una previsione tra l'altro drammatica per il primo ottobre 2015 quindi vi dico sembra tutto un po' studiato a tavolino perché il film esce a settembre con la previsione per il primo ottobre 2015 insomma sembra tutto molto studiato a tavolino sembra una storia più di Hollywood che di Wall Street però insomma vediamo ecco noi tendenzialmente ci aspettiamo dei rialzi sulle borse questo tizio qua dice invece che va tutta puttana il sistema bombe atomiche eccetera staremo staremo a vedere ecco le teorie complottistiche sono sempre un po' spesso esagerate però insomma vediamo guardatevi il trailer e magari insomma ne parleremo poi nei prossimi giorni su investire.biz Luca curiosità mia ma come mai al quarto quinto link che hai c'è un'ora e ventinove streaming il teorema della crisi con tutto quanto il film c'è già perché evidentemente io nel weekend ho dedicato tutto il weekend a cercare di guardare gratuitamente il film online ma non ce l'ho fatta e quindi evidentemente YouTube ha salvato il risultato delle mie ricerche e mi sta riproponendo lo streaming in verità non funziona quello streaming lì perché non esiste ancora online dato per fortuna perché dai non è ancora uscito non è ancora uscito nelle sale comunque insomma molto interessante questa cosa staremo a vedere vi dico è un po' un po' strano perché ho cercato informazioni su questo tipo e non dico che sembra saltato fuori dal nulla ma quasi l'idea che mi son fatto io che questo tizio ne abbia dette così tante che due o tre in 40 anni le ha anche prese però insomma staremo a vedere come la Mosca col calciomercato esatto esatto esattamente con il pendolino poi attenzione anche Galileo Galilei pensavano tutti che era matto perché guardavo col canocchiale e diceva cosa è strana quindi lasciamo aperti io comunque nel profondo del mio cuore nelle previsioni ci credo e come sai Enrico ci lavoro abbiamo questo tool che esce tra poco che è un primo passo verso degli algoritmi che cercano comunque di prevedere insomma c'è tanto lavoro da fare Enrico io direi siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento ricordo ricordo a tutti quanti davvero se volete seguire un bel corso di trading che sicuramente vi darà qualcosa e sicuramente vi darà una tecnica con la quale potrete fare trading fin da subito seguite il corso sulla strategia 9924 ci abbiamo messo davvero l'anima e ce la metteremo anche durante il corso per trasmettervi tutti i nostri appunto tutte le nostre scoperte in ambito appunto di questa di questa strategia per oggi io direi che possiamo fermarci qua Enrico siamo arrivati quasi alla fine grazie per aver condiviso con noi le tue analisi e mi raccomando ci vediamo domani su investire.biz buon trading a tutti buon trading buona serata ciao ciao